Prima Aurora Boreale ti mando in crash, cioè io la prima volta che l'ho vista per davvero, perché l'ho vista una volta durante un educational in Lapponia con un tour operator mega marcione che ci diceva l'acqua è gratis, però soltanto quella del rubinetto, e diceva, raga, una bottiglia d'acqua, potete dare, siamo qua per lavoro. E non avevano organizzato niente per vedere l'Aurora Boreale, allora a spese nostre abbiamo preso un bus e siamo andati tipo su a nord, nord, e ho visto un piccolo fascio di luce verde nel cielo prima che tutto si chiudesse di nubi. E quello per me è stato una sufficiente motivazione per poi mettermi a cercare l'Aurora Boreale. E quando l'ho vista per la prima volta in Finlandia, in Lapponia e Finlandese, sono crollato, boom, in ginocchio, davanti al cielo così, e poi mi sono ricordato che c'erano meno 27 gradi, mi sono andato, perché avevo tipo la neve fino a qua. Però l'Aurora Boreale è un qualcosa talmente, non so come dirlo, però talmente alieno che ti manda in crash. La prima volta che la vedi forte, cioè io quando porto i ragazzi a vedere l'Aurora, il cielo si illumina di verde.